Tre persone sono state arrestate per taglio abusivo di alberi in area protetta a Soriano. L'operazione è avvenuta in località Ariola e hanno partecipato i carabinieri della stazione di Soriano con i militari dello squadrone heliportato Carabinieri Calabria nel corso di un asservizio contro il taglio abusivo di alberi in area protetta. I militari hanno arrestato in flagranza di reato per furto e gravato David Ciurlia, Simone Papa, entrambi di 32 anni e entrambi residenti a Sorianello e Mihai Dumbrava, 35 anni rumeno, residente a Serra San Bruno. Già da tempo i militari della stazione di Soriano, grazie anche all'attività informativa svolta congiuntamente con i carabinieri forestali della stazione di Serra San Bruno, hanno unito le forze con i cacciatori di Calabria al fine di contrastare il fenomeno del taglio indiscriminato di alberi in area protetta. Di fatto è stato avviato un piano strategico di contrasto all'annoso fenomeno tipico della zona delle Serra Calabria con la finalità di debellarlo. Ed è proprio in quest'ottica che per la seconda volta in due mesi i carabinieri hanno messo a segno un'altra operazione che è sfociata stavolta nei tre arresti. Nel corso del rastrellamento in località Ariola, i militari hanno osservato i tre mentre abbattevano degli alberi per un peso complessivo di circa 250 quintali. Le riunite le forze, intorno alle 10 è scattato il blitz. I tre sono stati accerchiati ed in seguito bloccati. L'azione fulminea dei militari è reso impossibile ogni tentativo di fuga dei tre che si sono subito arresi. Il legname, le motoseghe ed il camioncino utilizzato per il trasporto del materiale sono stati posti sotto sequestro.